Ciao a tutti ragazzi, oggi torniamo a parlare di zaini Osprey, nel particolare abbiamo qua l'Osprey Atmos AG50LT e la versione femminile Osprey Aura AGLT50 ovvero le versioni light degli Atmos che abbiamo provato l'anno scorso di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito dalla caratteristica di questo Atmos e di questo Aura Per quanto riguarda lo schienale troviamo uno schienale con sistema Airspeed di Osprey e la tecnologia anti-gravity per la fascia lombare Il tutto per un peso nel modello maschile della taglia SM di 1,9 kg e per la versione femminile di 1,8 kg per la taglia XS-S Adesso che abbiamo visto le caratteristiche iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dallo schienale Come vi dicevo qui troviamo la tecnologia Airspeed di Osprey Innanzitutto uno schienale regolabile su quattro altezze ma non solo perché come vi dicevamo ci sono anche due diverse taglie in commercio Il schienale è regolabile, la regolazione funziona bene, è facile da utilizzare e soprattutto tiene nel tempo anche con carichi molto alti quindi un'ottima regolazione Per quanto riguarda invece la traspirabilità beh l'airspeed rimane lo stesso rispetto all'anno scorso rimane ottimo Davvero noi abbiamo utilizzato in delle giornate molto calde soprattutto queste qua di fine giugno e davvero ha una traspirabilità pur essendo uno zaino a rete ottima davvero ottima La cosa che poi è molto sorprendente è anche la stabilità di questo zaino perché comunque essendo una rete molto tensionata una rete che va a coprire tutta la larghezza dello zaino fa sì che sia uno zaino veramente molto stabile anche con tanti chili E parlando di chili andiamo alla fascia lombare che è pretensionata quindi ci aiuta molto per reggere il peso che andiamo a portare e il peso massimo che riusciamo a portare con la versione femminile è all'incirca di 12-13 chili Nella versione da uomo l'anno scorso vi avevo detto sui 16-17 in questa versione light scende e diventa massimo sui 15 chili Continuando a parlare della fascia lombare questa è innanzitutto regolabile attraverso un sistema di velcro e quindi ci permette di rendere molto avvolgente la fascia lombare con il nostro bacino Troviamo inoltre due tasche su entrambi i lati molto ampie, molto capienti, ci stanno molti oggetti e soprattutto sono anche richiudibili con zip Infine per quanto riguarda la chiusura frontale troviamo la classica clip che anche con grossi carichi non si apre durante il movimento Per quanto riguarda gli spallacci questi sono abbastanza piccoli come sezione ma molto imbottiti quindi non danno fastidio perdono la possibilità di regolazione che trovavamo l'anno scorso sul vecchio Atmos e per quanto riguarda invece la chiusura pettorale questa classica semplice col fischietto si muove su e giù sul suo binario lavora bene, nessun problema Passando alla parte anteriore dello zaino analizziamo uno dei due lati troviamo innanzitutto una tasca laterale per inserire la borraccia è una tasca molto capiente, molto ampia e molto profonda è dotata infatti di due aperture la prima in alto e la seconda orizzontale che ci consente di prendere e riposare la borraccia anche in autonomia Nota di pregio, questa tasca ha un materiale molto resistente che quindi non si andrà a rovinare anche nel corso del tempo Per quanto riguarda invece le cinghie di regolazione ne troviamo due una prima nella parte più alta dello zaino in prossimità del cappuccio regolabile attraverso la clip e una seconda sulla parte inferiore che ha forma di V anche essa regolabile con clip Per quanto riguarda la parte anteriore vera e propria beh, innanzitutto si può notare sicuramente la tasca posta proprio nella parte più esterna dove andare a riporre un secondo strato, una giacca è una tasca molto grossa realizzata anche nella parte laterale con materiale elastico quindi che può ospiritare davvero degli oggetti anche molto grossi Nella parte inferiore si va a perdere l'apertura cosiddetta per il sacco a pelo e questo cosa vuol dire che lo zaino praticamente è a sacca unica Abbiamo la possibilità di aprirlo nella parte laterale per poter prendere gli oggetti riposti nella parte bassa però è un'apertura che secondo me non è stata pensata benissimo perché essendo solo da una parte, innanzitutto si dobbiamo prendere qualcosa che sta dalla parte opposta dello zaino non riusciamo e comunque se dobbiamo far uscire degli oggetti particolarmente grossi come può essere esempio il pentolame o una tenda in quel caso dobbiamo praticamente togliere degli oggetti per togliere quello che avevamo bisogno e poi rinserire gli oggetti che abbiamo tolto un mezzo casino Sarebbe stato molto più semplice fare da parte di Osperi un'apertura AU che correva per tutta la parte bassa dello zaino a mo' di borsone in quel caso veramente sarebbe stato molto più semplice riuscire a prendere gli oggetti della parte interna Alla fin della fiera vi assicuro che nonostante ci sia questa apertura laterale il 99% delle volte andrete ad prendere gli oggetti dalla parte superiore praticamente bypassando questa parte laterale come se fosse uno zaino a sacca unica Infine per quanto riguarda la parte anteriore troviamo possibilità di mettere i bastoncini o divisi una destra e una sinistra oppure due bastoncini da una parte e dall'altra possiamo portare esempio una piccozza abbastanza modulabile comunque molto semplice da utilizzare molto intuitivo Sempre nella parte inferiore inoltre troviamo delle cinghie potendo andare a trasportare del carico esterno e visto che vi parlavo prima della parte superiore vi parlo della chiusura Questa è molto semplice molto classica con un cordino si va a chiudere e aprendola con entrambe le mani si va ad aprire semplice, intuitiva, veloce classica di tanti altri modelli ci sta Passando al cappuccio troviamo una sola tasca nella parte esterna mentre non troviamo alcuna tasca nella parte interna del cappuccio Questa è l'unica tasca che abbiamo però in compenso è molto capiente Abbiamo inoltre la possibilità di andare a rimuovere il cappuccio e sostituirlo con un altro che è legato allo zaino una parte in tessuto che possiamo mettere sopra lo zaino per richiuderlo Questa parte però appunto come ho già detto non è staccabile quindi rimane lì e può dare anche molto fastidio soprattutto perché manca una parte, una tasca in cui possiamo mettere appunto questo tessuto in eccesso nel caso in cui volessimo utilizzare il cappuccio principale Passando al comparto acqua innanzitutto possiamo portare due borracce nelle tasche esterne possiamo portare una sacca d'acqua nella parte interna con possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore e infine in dotazione troviamo anche un rain cover che lo copre tutto in caso dovesse iniziare a piovere Dunque arriviamo alle conclusioni per questi Osprey Atmos e Aura Ve li consigliamo? Sinceramente sì Sì, noi ci siamo trovati veramente molto molto bene innanzitutto ci è piaciuta molto questa versione LT sia perché diminuisce il peso comunque un 200-300 grammi li hanno persi entrambi sia perché diminuisce il prezzo questo zaino ad oggi lo si trova in giro tranquillamente sui 180 euro anche a livello di materiali si rivela molto valido è uno zaino che veramente comprate oggi e lo potete tenere per molti anni è realizzato infatti con un nylon 210D quindi molto resistente durevole nel tempo e per uno zaino di così grande litraggio è sempre un'ottima cosa detto ciao ragazzi non è la speranza di essere stati esaurenti e esaustivi anche per questo video vi ringraziamo per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao